Ciao a tutti, sono Norotus, bentornati sul mio canale e solo un bravissimo avviso per informarvi che dopo millenni stasera sarò live su Twitch, quindi su twitch.tv slash norotusgames, comunque troverete il link in descrizione, andrò live stasera per le 8, spaccate, in realtà non saranno mai spaccate, però ci proviamo, porterò due titoli molto interessanti, due titoli perché uno è un titolo che si sorrisce velocemente ma estremamente denso, diciamo, di sviluppatori italiani, si tratta di 20 mesi di sviluppatori su Newgar Moseley, invece il secondo titolo sarà un pochino più rilassante dopo il blocco che ci beccheremo nella prima sezione, e sarà Lumina of City, un puzzle game dall'aspetto, soprattutto dal comparto grafico, molto molto interessante. Mi raccomando non mancate alle 20 spaccate su twitch.tv slash norotusgames, vi aspetto, ciao!